...che sia a me per lavorare con il riflesso, che anche per fare questi saggi e anche ringrazio Rock'n'Roll Store Music di Bonferraro dove potete trovare tutto quello che serve per poter suonare questo strumento. Bene, sei pronto? Quindi vediamo Blink 182, lascio la parola ai ragazzi. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione